Lasciate che io regoli un po' la luce Spero che sia partito Perché sinceramente io come al solito non riesco a vedere Buonasera a tutti Buonasera bentornati con lo zio All slow video game Arrivediamo Scusate Stanno combinando un casino Questo di qua io ancora non ho fatto niente praticamente Vedete l'ho accalmato Dai Mi auguro che sentiate tutto Io sto dando una regolata qua Alle cose per vedere come vanno Come funzionano Non sto capendo niente Va bene Va bene uguale comunque Dicevo buonasera a tutti bentornati Resident Evil 1 remake Premiamo un pulsante qualsiasi Abbiamo premuto un pulsante qualsiasi Sì credo di sì Vabbè si blocca per fare il caricamento Un attimino Giusto per avere Sì 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 dai Non essere così pignolo Sì vabbè schermata Il caricamento Va bene Va bene Una volta bastava comunque Non c'era bisogno di farlo 14 volte Mamma mia Quante cose che mi dice di fare Scusate ragazzi Perché mi ha chiesto di fare delle cose Che l'altra volta Non aveva chiesto Va bene Speriamo che stavolta sia partito Mi dice completato Va bene Sì ok D'accordo Abbiamo fatto Oh era necessario Tutto sto casino No non ce l'ha bisogno Va bene Allora mi regolo un pochettino Il volume Magari lo facciamo anche Durante il giochillo Che forse è meglio E carichiamo la partita Carico la partita Non spengo il Allora Era G4 Vabbè magazzino Alla est A me non ricordo che fosse lì Poi sinceramente Non Di nuovo E niente ragazzi Abbiate pazienza Perché tra un caricamento Combatti le tue paure Per sopravvivere Tra un caricamento e l'altro Praticamente ha la necessità Di fare Di staccare Dalla Dalla schermata del gioco A quella della play Insomma e così via Comunque Dicevo Resident Evil 1 remake Siamo All Dove cavolo siamo No formato schermo Non c'entra Vediamo un po' Allora Qui abbiamo 12 proiettili E 45 caricati Quindi Direi che va bene Abbiamo la chiave Con l'incisione Della spada E mi sta più che bene Il coltellino Perché non si può sapere Mai Quindi Per non saperne Leggere Ne scrivere Allora Noi lo utilizziamo La mappa Allora Abbiamo girato Tutte Tutte le stanze Solo che non le abbiamo Praticamente controllate A partire dalla stanza Centrale Che è quella Praticamente Dell'ingresso Dove c'era scalinata E così via Poi siamo andati Sulla destra Dove c'era Da spostare La cassettiera Verso la statua E poi abbiamo preso Il corridoio Quello che è in basso A destra Questo Che in questo momento È sottolineato In rosso Praticamente Solo che Non l'abbiamo Visto Non l'abbiamo controllato Perché poi siamo corsi A salvare Perché si era fatto Un po' tardino Ma va bene Così Quindi direi Che Sarebbe il caso Di fare Di provare a fare Un po' di Un controllo Di quello che avevamo Nell'inventario Cartucce del fucile Al momento Non ci servono Anche perché Non l'abbiamo ancora trovato Non c'è niente Soltanto questo Vabbè Abbiamo appena cominciato Quindi direi Che va bene Allora L'altra volta Avevo il dubbio Sul fatto Di poter prendere Qualche cosa Mi pare Che l'abbiamo Già risolto C'era la cassettina Degli attrezzi Che dava che cosa Di preciso Non mi ricordo Vecchie scatole Scale Giacciono Abbandonate Oh Giacciono Quale ste cose Giacciono E noi le lasciamo Giaccuare Apriamo Let's open the door Dunque Abbiamo Consomato L'erbetta Io sinceramente Non Non ricordo Non mi è piaciuto Per niente Questo rumor Sinceramente Immagino Sia sopra Perché dal corridoio Dal quale veniamo Non ricordo Che ci fossero Però questo cambio Di luce Qua è illuminato Mentre qua Diventa Completamente Buio Vabbè Prendiamo L'erbetta verde Non si può sapere Possa Possa servire O meno Non è piaciuto Ai signori zombie Che io Prendessi L'erbetta A quanto pare Non sono stati Molto contenti Vediamo cosa dice Questo quadro Niente Ora lo sento A sinistra Sembra che la maniglia Stia per cadere A pezzi Procedere Comunque No Ho un attimo Il dubbio Vuol dire che Praticamente Una volta passato In teoria Non potrei Tornare Qui In questo posto Va bene Se il gioco Fa così Vuol dire che Deve essere fatto così Comunque ci sono Diversi posti Dove andare Stanze da visitare Per cui possiamo Andarci tranquillamente Sì Dai Procedi E distruggi Questa maniglia Una maniglia Di 42 kg Praticamente Va bene Vediamo cosa c'è Da queste parti Questa porta Immagino sia chiusa L'emblema Della famiglia Spanser Inciso Sulla maniglia Ehi là Utilizzava da sola Il coltellaccio No niente Non lo uso proprio Per niente Non lo vuole sapere Minimamente Però mi distruggi Se fai così Ogni volta Scusami Infatti Oh buonasera Proprio Proprio Non l'avevo sentito Minimamente Questo zombie Si era Si era nascosto Proprio Alla grande Questa porta si apre Che sia porta Insomma Cancello Qualsiasi cosa Questa sia Si sentono i grilli Che frittiniano E anche i lupi Che ululano E non è per niente Rassicurante Proprio Per niente C'è uno statuetto Diciamo che c'è Una bella atmosfera Molto Lugubre E molto Impaurente Che dè Non sono stato io Ah Cosa E muoviti Dannazione Alla miseria Mamma mia Come sono aggressivi E non c'è modo Di liberarsi Di sti cosi Niente Completamente Eficamente Sono Morte certe Vero Ehi Muoviti Niente da fare Trofeo guadagnato Benvenuto In Resident Evil Ma che bello You are dead Non sono riuscito Minimamente A evitarlo Completamente E vabbè Se ne va di nuovo In fase di caricamento Ragazzi Mi spiace Sì Va bene Carichiamo Ora di nuovo Però almeno Adesso qualcosa Lo sappiamo Quanto meno Lo dovremmo sapere È fastidioso Questa modalità Di caricamento Però La paura Non può ucciderti Ma Ma che è Allora Prima di fare C'è una cosa Che volevo fare Non ricordavo Il tasto diretto Della mappa Ecco Praticamente A parte Dover riprendere mano Perché Tra giocare Castlevania E giocare Diablo Praticamente Tra il 2D E il 3D Isometrico Poi Questo 3D Lo perdo Proprio di vista Non è Quei periodi Che gioco Assivamente Il gioco E lo imparo È Piuttosto Come si dice Non movimentato Ma Pieno Il periodo Ecco Anche se Per ora Magari Potremmo Mettere da parte Un pochettino Diablo Vediamo se Adesso Questa porta Si apre Dice che È rotta Quando Si romperà Evidentemente Ci sarà un motivo C'è un momento Preciso Io non ricordo Completamente Il gioco Proprio Zero Non me lo ricordo Minimamente Allora A questo punto Proviamo a tornare indietro Evitiamo il suicidio Nella stanza Della Allora Qui c'è Ops Pardon Abbiamo Questo stanzino Di fronte a noi Che è piccolo 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 E che ci darebbe La possibilità Di A sua volta Poi scendere In quella stanza Centrale Non che però Potremmo anche Tornare al corridoio Quello rosso Perché Comunque ci dice In corso E quindi Dovrebbe esserci qualcosa Da fare Andiamo nel frattempo Un'occhiata a quello che c'è qua Un quadro di un cavaliere A cavallo Questo sarebbe Lo stanzino Certe volte Non so se il silenzio È meglio O è peggio Anche questo stanzino Sarebbe da poter visitare In teoria Questa cosa ci dice Hai usato il grimaldello Ullala Eh vabbè Se abbiamo usato il grimaldello Direi che Non ci resta altro Che Controllare Anche se non ero Indirizzato qui Però qualcosa mi dice Di dover rientrare Perché sentivo già Il ticchettio Dei cani E non è Non è il momento Adatto per morire Un quadro della villa Al tramonto Mi pare che questo L'avevamo già visto Allora Entriamo qui Che dovrebbe essere Il corridoio Che dobbiamo controllare Perché E proprio Ce l'hai con me Vero Era così semplice Cioè Prima mi ha Devastato Ed era così semplice Immagino ce ne sarà Qualcun altro Ah Finisce la musica Tutti i cani Disgraziati E allora Però mi sa che E qua non abbiamo ancora Completato Quindi sì Perché prima Mi pare che spostasse Lei Ci provava Quanto o meno Quando siamo passati La prima volta Un ornamento di classe Se lo dici tu Ecco questo lo spingeva No lo spingiamo Direttamente C'è qualcosa qui Prendere pugnale Immagino che sia Uno di quei pugnali Sì infatti Oggetto tattico Bene Anche perché Mi avrebbe occupato Un altro spazio Ricarichiamo sempre La pistola Ora che ci penso E' sempre E' sempre bene E' sempre bene averla Completamente carica Cosa ci dice di questi Mi diceva qualcosa Di questi piatti Ma dopo che L'abbiamo spostato Non praticamente D'accordo Che nel primo Sembravano Qui c'è solo Una serie di piatti Ornamentali Nel primo Espositore Sembravano Quei piatti Disegnati Invece C'è qua Danno più impressione Di avere La tridimensionalità La profondità Poi non so Sinceramente Se è un'impressione mia Vabbè Questo non si sposta Posso serci su? No Vediamo quest'altro Allora Ecco Spostava anche questo L'ha spostato Un micron Quindi immagino Di doverlo spostare Dall'altro lato Dai Jill Collabora Brava Così ti voglio Cosa c'è qui? Caricatore Della pistola Il che fa molto comodo Adesso ce l'ho da Come completato Benissimo Allora Direi che possiamo Proseguire Vediamo Quegli stanzini Che ci sono In alto Il balcone Quello fuori Lo teniamo Un attimino In disparte Almeno per adesso Salve Jill Come avevi detto Bene Allora Entriamo in questo stanzino Vediamo Cosa ci riserva Cosa ci Offre Oh è un bagnetto Con dell'acqua torbida Il che non è molto 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 carino per niente Il lavabo non ci dice niente Io non infilerei le mani nell'acqua Tranne che con un Dirigibile Sembra che non sia stato pulito Da un bel po' Noi ce ne siamo voluti assicurare Sì Sì Jill L'abbiamo capito Grazie Vediamo cosa ci dice Della vasca con l'acqua torbida È piena di acqua sporca Togliere il tappo Chiaramente Era normale Cioè non era normale Boom È un filmato E vabbè dai Lo giustifichiamo Ci stava Ci stava Ci stava Sì Decisamente Harlock Decisamente Però Abbiamo preso Il pugnalino Che è una cosa abbastanza graziosa Lì abbiamo tutti e due Sì Non mi ricordo come si usava il pugnale Tattico Devo vederlo un attimo dal Comandi Allora Cambio bersaglio Muovi muovi Corri Attacca Posizione Tocco Attacca Non c'è Oggetti tattici Ah lo fa Automatico Ma sarebbe poi Manuale Con L2 No io lo lascio fare In automatico Così se In caso di Difficoltà Dato che io sono Bravo come Una mummia salata Direi che è il caso Che L'utilizzi lei da sola Hai ragione Beh hai ragione È uno schifo Comunque benvenuto E beh Sono felice che tu sia qui Buonasera Dunque Dove eravamo? Mi sono già perduto Allora Questo stanzino L'abbiamo visionato Andiamo in quell'altro Quello piccolino Perché c'è sempre Quest'inquadratura Da questa Finestra Che mi lascia Sempre un po' Ehm Vabbè È un gioco Orro Quindi si presume Che ci debbano essere Le trovate Che facciano paura C'è il simbolo Della ombrella Al centro Di questo stanzino C'è l'inquadratura Dall'alto Dall'alto Che Oh Cambio Una terza inquadratura In una stanza Di un metro e un quarto Una terza inquadratura Va bene Vediamo cosa ci dice Niente Qui non ci dice niente Qui niente ancora Io per sicurezza Non voglio camminare Sul centro Non credo di cadere Però Onde evitare Un altro pugnale Un'elucente caraffa D'argento Oh mio dio Nastro Inchiostratore Che bella stanza Come Oh ma guarda Cosa c'è Guarda che bella Esposizione Mi sa che è la cosa Più utile Ma forse Mi sa che non possiamo Prenderla Perché se non ricordo male Quello è il maledetto Occupa due spazi Ci sono i resti Di qualcosa Che è stato bruciato Un odore acre Pervade l'aria Mamma mia Un odore acre Cavalletti e statue Di bronzo Qui non c'è niente Di interessevole Tu dici Beh A quest'ora un caffè Se lo prendo io Un caffè A quest'ora Praticamente Ma dormendo Lunedì pomeriggio Che giorno è oggi Venerdì Sì vabbè Prendere fucile Ah Però mi sa che abbiamo Attivato qualcosa Con quella È carico Ci sono i primi Proiettili Sì Intanto Esaminiamolo Vediamo cosa ci dice Normalissimo Fucile Esamino Spara proiettili Calibro 12 È un'arma dotata Di un ampio raggio Di fuoco E si va di live Notturno Arlok Sì Ti ricordi i primi tempi Arlok Quando Youtube Mi metteva La live Alle 4 e 57 Del mattino Disgraziati Io programmavo Alle 9 e 3 Alle 21 e 30 Alle 21 e 45 Poi davo L'ok E Youtube da solo Modificava L'orario Dalla live Trasmissione A ore 4 e 57 Infatti Pochi che seguono Mi dicevano Ma che Scusa Che fai alle 4 e 57 Io cadevo dalle nuove Come che avete in testa Guarda che Il sito dice Alle 4 e 57 E andavo a modificare Di nuovo La live E cavolate varie Mi quasi poteva uscire Vabbè Cacchiate che succedono Non ci sono uscite Io ero convinto Che da qui si uscisse Per andare Verso il corridoio A sinistra Invece Non è così Non è così Ma dobbiamo tornare Alla stanza di salvataggio Perché Mi devo Liberare Uno o due spazi E infatti Mi aspettavo Che succedesse qualcosa Perfetto Oh god What did I do now Wesker Barry Help Jill You in there? Barry? Get me out of here The door's jammed Stand back Grab my hand Il pad Il pad che sta tremando A casino Non so se avete sentito Per un attimo Ok Ok Barry That was a close one A second late You would have fit nicely Into a sandwich Really Thanks But Barry Didn't you say You were going back To the dining room To find other clues I'm glad and all But why are you here I just had something I wanted to check Anyway We should get back To searching For Wesker and Chris Thanks Barry I owe you one Don't mention it Trofeo guadagnato Grazie Barry Allora Alloc Tu dici Gil poverina Giustamente Besso Sembra fortuna Vabbè Se no finisce il gioco Vabbè Dai Bacio No Che bacio No dai Tra Barry e Gil Proprio no Non esiste Assolutamente Capisco però Cioè ci sarebbe Magari un bacio di ringraziamento Non un bacio sexy sensuale Insomma Niente di Ora Quelle stanze Non sono più Irraggiungibili Ragion per cui A maggior ragione Andiamo a Salveggiare Con molto Non calance Direi Sempre che mi permetta Ancora di entrare qui E bacio bacio Arlok mi sa che è sbagliato il gioco Però Io non credo che sia Il caso di Chiamare i baci A Resident Evil È che non ricordo se ci sono baci O in quali di questi titoli ci sono baci Ci sono scene insomma un po' buttate così Non me lo ricordo È tanto tanto tempo che non gioco Anche questo Anche riprenderlo Ora scusate che la schermata forse se ne va No Forse no Anche giocare dopo tanto tempo Vai vi serve anche a A riviverlo È perché se tu lo giochi poi troppo spesso Lo impari E poi Magari non te lo godi Invece rigiocarlo dopo tanto tempo Dopo aver giocato un altro miliardo di titoli E un altro miliardo di storie E allora te lo godi Perché È come Ti dà l'impressione di non conoscerlo Ah tu dici Beh nel 2 e nel 6 ci sono scene di Diciamo Sensuali Nel 2 Nel 2 non lo ricordo Nel 2 Vabbè nel 2 che c'è Ada Ma Perché è sexy lei Ma non ricordo se ci sono scene di Baci o cose del genere Il 6 sinceramente mi sono rifiutato di giocarlo Perché proprio ce l'ho Sul groppone Lo dico chiaramente proprio Allora faccio una cosa Tu che ho appena salvato Io Metto il nostro inchiestatore da parte Ecco Nei finali Dici Ah nei finali Io Vabbè Dipende anche dal finale Sì Non mi ricordo Ti direi una stronzata Veramente Non mi ricordo assolutamente Dici Leon con Ada Ne sei sempre loro Ah sì infatti E loro due sono Quelli diciamo Gli unici che si Che si lasciano un pochettino andare Gli unici che ci danno dentro un pochettino Vabbè Ada è affascinante È sexy Vuoi dire Poi Leon insomma Un bel ragazzo Si fa guardare Per cui tutte e due Diciamo che hanno una certa intesa Ma non è il caso di Approfondire questo discorso Che approfondiscano Che approfondiscano Insomma Lo lasciamo a loro Noi siamo per la chirurgia Del disimpegno Dunque Adesso Direi Scusate Direi Che possiamo andare A controllare Lo stanzino Di prima Ovvero uscire Da quella parte Sperando che il cane Stavolta ci lasci Un minimo Di 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 sopravvivenza Però se arriviamo Là sopra Ad ogni modo Non c'è granché da fare Perché la porta in alto È comunque rossa È chiusa Il resto è zombie Chi dovrebbe Vabbè però Non so Ti ricordi I personaggi Ce ne sono tanti Lo stesso Barry Lascia perdere Wesker Dico Però poi c'è Claire C'è Chris Ce ne sono tanti personaggi Voglio dire Sono tanti I personaggi Resident Evil Poi si moltiplicano Certo Pomiciare con uno zombie Non deve essere Parecchio sensuale Beh Io dico che Certo A meno che poi Non si tratti di un zombie Non so se hai visto I film di Resident Evil Mi auguro di no È una stronzata Una porcheria Senza fine Ah Come l'ho detto Però praticamente C'è una scena In cui ci sono Due zombie Che sono Praticamente Quasi completamente nude Hanno soltanto Gli slip Le mutandine E hanno tutto il seno Diciamo Al vento E quello si va A impaiare Contro qualche cosa Per guardarle La parete rivestita Di ritratti Tutti i visi Sono stati cancellati E che cosa romantica Quindi dov'è Questo zombo malefico Io lo sento a destra Ma non lo vedo L'ho visto Io mi ricarico sempre Per non sapere Né leggere Né scrivere Comunque ho voluto Quattro colpi Mi sa che il quinto L'ho sprecato Vero? Comunque Ben su me Lo sai che Sinceramente Hai messo in ballo Una bella discussione Il fatto che Pomiciare uno zombie Si potrebbe aprire Un dibattito Il primo zombie Che ho Che ho pomiciato Oh 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 Stasera c'è il pienone Oh 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 Il pienone Buonasera Anche a Parser Che ben arrivato Il 2 è gradevole Il 2 è bellissimo Se parli del gioco È spettacolare Se parli del film Sai quale mi piace Un pochettino Il L'apocalypse L'apocalypse Mi piace un pochettino Quello che c'è dopo Che non mi ricordo Che è Così così Gli altri Semplicemente no Compa se parli più forte Che pare che sto facendo L'omelia Per il funerale Ma stai scherzando? Stai scherzando davvero? Non posso parlare più forte Posso fare una cosa Un attimo Aspetta Posso modificare Il volume Del Del microfono Datemi un secondo Grazie anzi Per avermi avvisato Scusate Forse avete un attimo Di Visuale Spenta Sì infatti Aumento un po' Il livello del microfono 1 2 Va meglio così? No il film apocalypse Ok va bene Ditemi se Ok va meglio così Perfetto Grazie per avermi avvisato No perché Solitamente dipende anche Dal gioco che uso Sono su pc O sono su Su console Cambia il volume Sì gli altri fanno schifo Beh Lo so Ma schifo potente Però sai si vocifera Si parlava del fatto Che stiano Rifacendo Una serie di Resident Evil E comunque c'è un film Che dovrebbe uscire Quest'anno stesso Non so Fino a quanto Cioè Fino Quanto sia Credibile Questa notizia Mi mandi la fattura a casa Disgraziato No Potrebbe essere Mai una volta Che tu fai un favore Senza chiedere un ritorno Mai Mai Veramente Ma chi mai Vorrebbe pomiciare Con uno zombie Non lo so Non lo so Chieditelo Chiedelo un po' lì Mi sono illuminato Mi sono Flescizzato C'è qualcosa Che non mi Non mi quale C'è qualcosa Che mi tonda Direi O direbbe qualcuno Mi sa che Non Parserk Mi sa che È beso Ma non ha capito Chi tu sia E io non glielo dico Vediamo se ci arriva Da solo Che probabilmente Con questo nickname Non ti ha mai visto Online Ullala Qua tutte le porte Sono chiuse E c'è una musichetta Poco rassicurante E questa è l'unica Porta apribile Praticamente Come che non ricordo Niente Incredibile Talmente tanto tempo Che non lo gioco Che non ricordo Una marba salata What's this Ci sono diverse cose Fischietto per cani Oh che bello Finalmente Promemoria Stropicciato Vado a leggere Sì sì Abbassa la voce Di più Che così Non ci sentiamo Tempo di carestia Vabbè Non proseguo Ok Questa sera Non proseguo Comunque Vado a leggere Oggi Sir Spencer Mi ha chiesto Di nascondere qualcosa In un luogo sicuro E io ho avuto Questa idea Ho pensato Che se a proteggerlo Fosse un animale Pericoloso Come il perfido cane Che vive qui Nessuno sarebbe In grado Di avvicinarsi Il randaggio Si aggira sempre Nei pressi del balcone Sul lato occidentale Del secondo piano E di certo Accorrerà il richiamo Di un fischietto Per cani Ed è a questo punto Che entri in gioco tu Credo che tu sia L'unica persona In grado di avvicinare Quel dannato cane Senza rischiare Gravi mutilazioni Il che significa Che solo tu Puoi mettergli Questo collare L'oggetto che Sir Spencer Vuole nascondere Si trova Dentro il collare Sei l'unica persona Di cui posso fidarmi Naturalmente Verrai ricompensato Per il tuo aiuto Ricordi quel certo oggetto Che hai sempre desiderato In cambio Della tua collaborazione Potrei essere in grado Di fartelo avere Mi sembra Un affare vantaggioso Per entrambi John Tolman Va bene Quindi dobbiamo Stropicciare il cane Io ci sono Perché Audio zero Ci sono Ci sono Come che non mi sentite Scusa un attimo Ci sono Ci sono Ci sono Perdonami un secondo A me io così Mi senti Mi sentite Io Ero attivo Normalmente Non è cambiato niente Aspetta che devo Riprovare Allora No Mi sono perso Scusato un attimo Io ci sono Io ho il volume Del microfono Mi dice adesso Eri morto tu Eri morto tu Eri morto Grazie del suggerimento Del risuggerimento Tu hai aggiornato la pagina Parserk Ok Ti sento bene Va bene Grazie E infatti Perché me l'avrebbero detto tutti Invece me l'hai detto Soltanto tu Quindi andiamo a Esaminare Il Il fischiettillo Fischiettino per cani Quindi io lo devo richiamare Che mi sembra Una balena spiaggiata Più che un fischiettino Devo riesaminare Soffiandoci dentro Si producono suoni Che solo i cani possono sentire Puoi usare questo fischietto Come richiamo per cani Lui ha detto Sul balcone Lato occidentale Che è da tutt'altra parte Praticamente Proprio Di là E mi sa che adesso Praticamente Non sarà nemmeno possibile Arrivarci Proprio È un classico Però adesso Possiamo andare ad aprire Quella porta Che prima era bloccata Ad ogni modo Prima di andarci Finiamo di Controllare questa stanza Vediamo se c'è Qualcos'altro Di interessevole Un diario Diario aperto Vediamo cosa ci dice Questo diario aperto Le pagine sono bianche Una marba Un diario Con le pagine bianche Però c'è qualcosa Che si illumina Da quella parte Come ci vado Figlio di botanica Utilizzo delle erbe medicinali Come è noto Esistono molte piante A cui sono attribuite Proprietà medicinali Fin dai tempi antichi Gli uomini hanno curato Ferite e malattie Utilizzando diverse piante In questo libro Prenderemo in considerazione Tre erbe diffuse Nelle montagne Arclay E ne illustreremo brevemente Le proprietà Fufufufufufu Medicinali Ogni erba possiede Un proprio colore Dotata di diverse proprietà curative Sì Figlio di botanica L'erba verde Ripristina la forza fisica L'erba blu Neutralizza le tossine naturali L'erba rossa Non produce alcun effetto Se utilizzata da solo Ma abbiamo scoperto Che unendolo all'erba verde Ne amplifica l'efficacia Sì queste cose le ricordavamo Illustreremo gli effetti All'erba rossa Insieme ad altre erbe Una volta raccolti Maggiori dati A riguardo Nel frattempo Non fatevi scrupolo Di effettuare voi stessi I nuovi esperimenti Sì mischiamo Tutta l'erba possibile Poiché la vera conoscenza Si acquisisce Attraverso l'esperienza Certo Direi Quando Loro ti danno proprio Il giusto consiglio Quando ci sono dell'erba E tu fai prove Vai tranquillo Non ti preoccupare Tanto poi Il problema Ti risolve Ma scusa Questo oggettino Tutto illuminescente Lo vuoi prendere Oh L'accendino Porca miseria La cosa più Più bella del mondo L'accendino Uno degli oggetti Proprio più Lighter 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 L'accenditore Dell'accenditore Vi è inciso un messaggio Non giocare col fuoco Con amore Jessica Grazie Jessica Ci hai appena salvato le vite Pensare che io volevo fare Volevo dare fuoco A tutta la magione Va bene C'è qualcos'altro Con i libri Sulle varie popolazioni Della terra Anche questi Vediamo cosa dice Questo scaffaletto Di qua Una preziosa marba Va bene A questo punto Abbiamo Abbiamo capito Sì Esatto Hai capito Benissimo Arlock Cioè loro Lo hanno un po' Velato Diciamo così Però il messaggio Era chiaro Quando tu trovi l'erba Ti preoccupare Fai tentativi Poi anche se Vai a finire Direttamente Al reparto Rianimazione È un problema Secondario Tu intanto Armatura Guarda il pulviscolo Intanto fuma Poi si vede Buon insegnamento Questa è un buon insegnamento Cioè Sa quando i videogiochi Sono Anche educativi E questo è Il lato educativo Di Resident Evil Fumati tutta l'erba Che trovi Oh la la Oh la la E tutta questa erba Dove caspita Le mettiamo Non abbiamo più spazi Cioè Potremmo prendere Quella rossa E combinarla Direttamente Con quella verde Così abbiamo Una ricarica Già A sto punto Giocavo in gioco Porno Oppure quello educativo Sicuramente Guarda Sai che ci avevo pensato Il problema È che su Twitch Non lo permettono Permettono le bestemmie Ma non i giochi porno Non so quale sia Sinceramente Vabbè Sorvoliamo Questo discorso Basta Non vogliamo Inveire Riusciamo a raccogliere L'erba rossa Non puoi portare con te Ah non posso Raccoglierla prima Qui dove siamo Oh A questo punto Serve Una save room Un cammino spento E ora noi provvederemo Subito ad accendere Prima vediamo Ah c'è un'altra mappa Sopra Molto curiosamente Sarà la mappa Del secondo piano Il quadro di una villa Il quadro di una villa in costruzione Sotto Sotto mio suggerimento Tu sei quella che Che aveva Suggerito i giochi Eroge Ma lo sai che Quasi quasi Non è una cattiva idea Arlok Mi sa che Perché Ho visto una buona offerta Sulla saga Di Come capita Si chiama Di Nekopara Non so se conosci Nekopara Alzi la mano Che vuole si può Viene un gioco porno Sì Nel canale siamo Quattro utenti Compreso me Quindi siete in tre Faccio il gioco porno Quel poco Che ho costruito Finora Lo proprio Lo butto All'erba Veramente Lo butto all'erba Usiamo Diamo fuoco a tutto Guarda là Oh che bellezza Ma che beltà Adesso il cammino È acceso Delle linee incise Sul rilievo Brillano rosse Nel calore intenso Com'è poetico Eh sì È praticamente È la mappa Solo che È Brillano di calore intenso Cosa Ci sarà Qualche cosa Da usare Lì Non si sa Che cosa Sinceramente Guarda Non avevo Dubbi Parserk Proprio Non avevo Dubbi Della tua Partecipazione Mi sorprende Che tu ne abbia usate Così pochine Mani È chiusa L'emblema Di un elmo È inciso Sulla serratura Va bene Assomiglia tantissimo A quella in cui ti trovi Chissà perché Capitano tutte a me Aspetto Guarda Aspetto in fiducia Cioè non mi muovo Aspetto fiduciosamente Di vedere Quello che Fatti tipo 42 righe di mani O ci metti Proprio Carichi un'immagine Uno con le mani alzate Magari Che ti conosco E tu sei disgraziato E malefico E perverso Per questo Voi giochi porno Disgraziato Nel frattempo Vi mi un'occhiata Alla mappa No non conosco Penso sia uno Di quelli leggeri Al massimo Si vede un ragazzo In costume Non è Sì Non è di quelli Chiaramente Non è un entai Però insomma È un po' Sì Lo puoi Catalogare Tra i soft core È vero A parso Che Ragazze in costume È roba Da bambini Vero Ragazze in costume Si vedono dovunque Noi abbiamo bisogno Proprio Il porno integrale Vero Entai senza censura Nemmeno i pixelini Che usano i giapponesi Proprio Totale Director's cut Vero Facciamo Twitch porno Director's cut Chissà perché Veramente Non ero proprio sicuro Di questa tua partecipazione Vero Era Sai Il voto sicuro Ce l'ho A posto Sono indeciso Dove andare Se scendiamo Vorrei Andare a salvare Dato che abbiamo fatto Queste cose Liberare ancora Un altro spazietto Possibilmente Sai quanta gente Ti segue Se inizi a portare porno Sì Il primo secondo e mezzo Perché poi chiuderemo il canale Intelligentomane Lo so Anche se io Chiamassi una ragazza Se io mettessi Qua una telecamera C'è su una Sul decoltè di una ragazza Che porta l'ottava Avrei 70 milioni di follower Anche se io gioco Loro non gliene frega niente E guardano il decoltè di quella ragazza Per cui Siamo sempre là Però Lasciamo stare dai Lasciamo stare Facciamo fare soldi pure a loro Dato che hanno trovato In modo di fare soldi Senza farsi toccare Ma solo mostrandosi E guarda che Non è Non è da sottovalutare Sta roba Dunque Per adesso Posso l'erba verde E l'accendino E prendo Il nastro Così vado a risalvare Vuoi mettere L'ebbrezza Sì L'ebbrezza delle manette Pure Che io Sai che penso Che Ti possano arrivare Anche Del Non so se ci possono essere Dei svolti A livello penale Se tu Anche così parti A primo impatto Cioè senza controlli Magari i primi Il primo mezzo minuto Cominci a trasmettere Qualcosa di vietato Non so se ci sono Algoritmi informatici Che Sicuramente ci sono Perché appena tu metti il gioco Lo riconosce Il Twitch lo riconosce immediatamente Però non so se Twitch direttamente Non ti fa partire Il gioco Oppure ti mette Una sorta di Cioè solitamente Se c'è La Una trasmissione Di Audio Dove ci sono i contenuti Protetti La La fa muta Cioè toglie l'audio Completamente Anche quello mio Indipendentemente Se io copro O meno Se l'audio è forte Della musica originale Lo copre Però probabilmente Non so se poi copre il video Oppure lo offusca Completamente Comunque Non si vedrebbe niente In ogni caso Voglio dire Penso di dover portare L'accendino Non so cosa lasciare In questo momento Lascerai il coltellino A mali estremi Per ora cercherò Di utilizzare La La pistola La pistola Allora Arrecchiamoci Sempre il solito Senso di orientamento Che è No zero Ancora meno di zero Se c'è qualcosa Sotto lo zero Grazie Sei un amore Veramente Ti voglio bene Allo stesso modo Di quanto voglio bene Una martellata Sull'alluce Veramente Sei veramente Un tesoro Allora Dobbiamo finire Questo corridorio Dove c'è la musichetta strana Altrettanto Allora Cosa è questo? Supporto in legno A cosa servire Supporto in legno? Il supporto in legno È un libro Ah Al suo interno Si trova un foglio Di carta sul foglio Non c'è scritto Una beniamata Marba Se lo dice lui Noi ci crediamo Non oso ripetere Come quando eravamo Alle scuole elementari Di tre volte Consecutivamente Ionico C'è nient'altro qui Puoi sentire sulla pelle Il calore della luce Mentre ti avvicini Oh signore Ci hanno messo Delle frasi Che sono Alquanto Come dire Atmosferiche Mamma mia Questa è la sala delle torture L'emblema di un'armatura Piatti rotti Questa luce Nulla Vi si uniamo Qui c'è solo Una serie Di cianfrusaglie Di cui squiglie Pinzillacchere Anche direi Non mi fido Ragazzi Non mi fido Sinceramente Né di questa porta Né di quell'altro Jack è una barzelletta Sessitoli della fine Eh Anche qua L'armatura Questo cos'è? Niente di utile Mi è sembrata Questa cosa Tipo Un'armetta Però dovrebbe splendere Forse Dovrebbe fare L'illuminatevolezza Questo vaso qui Qui c'è solo Una serie Di cianfrusaglie Va bene Hai usato La chiave Spada Vediamo adesso Cosa succede Con la chiave Spada Eh ma Mi sto annoiando Ti ha salvato La campanella Varser Ricordatelo Ok Una chiave Una chiave Però in espressiva La faccia Ho preso I proiettili Corrosivi Come ciao? Come ciao? Gli ha detto ciao? Ma l'ho sentito io Me l'ho sognato Gli ha detto Non ricordavo assolutamente Eh scusami Vuoi mettere Lui No Alt Alt Permettimi di corraggerti Ha trovato Il proiettile Esplosivo Che tra l'altro Sono sei E poi questi sono Per il lanciagranate Io non ce l'ho ancora Preghetti del lanciagranate Infatti Contengono Acido Solforico Sì Più o meno Ce ne sono tanti Zombie Vabbè Ma lui comunque Se lo può permettere Lui è Ertibu Quindi siamo tornati Alla sala Principalmente No Non sono inutili Lasciati dire Che quando si trova Il lanciagranate È una bella arma Davvero Una bella arma Aiuta tantissimo Dunque Vediamo un po' Comunque Adesso Dovremmo andare Sì In quella sala Di là Che è da Da completare Proviamo queste due stanze Chissà se le sblocca Adesso Aspè Non l'ho sentito Ma perché lui Il cannone Non è la pistola Pacco Perché lui è Barry E lui se lo può permettere Noi siamo La donzella In pericola Quindi abbiamo La pistolettina Ma poi prenderemo Il lanciagranate E poi comunque C'è L'arma Riconosciuta Di Resident Evil Che è la pistola La Magnum Si prende però Molto più avanti Che lui è figo E lei Esatto Esatto Vabbè lui è Barry Barry è sempre stato Quello più Armato in tutto il gioco Praticamente A parte Leon In Resident Evil 4 Ma non c'entra niente Con la saga Gli hanno dato il titolo Di Resident Evil Io l'adoro Ah è bellissimo Il gioco di Resident Evil 4 Mi piace un casino Però non c'entra niente Con la saga È tutta altra storia Proprio Vedi che lei è sculetta Se guardi bene Lei c'ha Lo sculettio Plop plop È sempre femminuccia Insomma Sento un rumorino Ma no Ma no È soltanto un rumorino Anche il capitano Del Titanic Lo diceva Ma no Otta miseria Lo sto L'hai ricordato? Come li so a memoria Sti cavolo di cosi? Voi passati vent'anni Venticinque anni Mamma mia Qua ci sono le altre Erbette verdi Ma prima di prenderle Io Farei una cosa Se scendiamo di qui Ci ritroviamo di là Quindi non è che abbia Gran senso No Se scendiamo a sinistra Siamo al primo piano Di qua E qui Infatti è questa La porta giusta Anche io Dovremmo rivederli Appena possibile Se vuoi Ci organizziamo Solo che però Questa situazione Che c'è Sai che Siamo messi In queste condizioni Voglio dire Vederli in compagnia È sempre diverso Certo non si ride più Come si rideva Ai primi tempi Ormai le battute Le sei a memoria L'emblema di un elmo Va bene E ora no Chiaramente dai Vabbè ma ci sarà occasione Allora Dobbiamo Dobbiamo provare A fare una cosa Posso prendere Questa chiave Possa la morte Del pace A colui che raccoglie Questo emblema Grazie Madonna mia Mi ero completamente Dimenticato Di aver riempito Nuovamente L'inventario Dovevo comunque Per forza Andare dall'altro lato No ma Devo tornare Là sotto Perché non c'è Il Il diamine Del Come si chiama Del baule Qua Questa porta Centrale Riusciamo ad aprirla Adesso No Nei corvacci Malefici Per i corvacci Praticamente Non devo correre Se corro Praticamente Mi dovrebbero Venire a scartavetrare L'anima Se invece Vado piano Forse Forse Non rompono Forse Ora Lo senti pure tu Rumorino Sì ma Quello di prima Non era così Forte Vedi guarda che bella Questa inquadratura Però Questa è una di quelle cose Fatte benissimo Che nonostante Lei sia finta Perché comunque Finta Dà proprio L'impressione Di essere Molto 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 Realistico Lascia perdere Il pubbiscolo Che è proprio Una striscia Buttata Lì Un layer Incollato Di 5 cm Per un metro Incollato Lì C'è il layer Solo in quel punto Però per il resto È bellissimo Sì però Basta Eh Ah il rumorino C'è stato Basta Non è che stiamo qui A sfamare Tutti i corvi Del circondario Migo è morto Ma Il cadavere Il tuo compagno Che è net Sì Che belle notizie Hanno disboscato La foresta Per fare tutte Queste porte Sì Praticamente Sì Ma secondo te Perché la foresta Amazzolica Non ci sono più Alberi Perché hanno fatto Le porte Di questa magione Di Resident Evil Solo per questo L'hanno disboscata Non per altro Dobbiamo andare A girare Tutte queste porte Chiave Dall'altro lato Che devo vedere Se ora con I giri Che abbiamo fatto Siamo riusciti Un po' A sbloccarne Qualcuna Niente Completamente No Non fa niente Sì Io ti ringrazio Del suggerimento Ma a quanto pare Non è Non è rilevante Siccome non ricordo Cosa dobbiamo fare La cosa che vorrei fare Sinceramente Hai usato la chiave Spada Perfetto E salvare Ma mi rendo conto Che siamo In mezzo alla pu In mezzo alla Insomma La Ora lo senti Rumorino Vero Brutto Rumorino Di qualcosa Di strisciante Brutto 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 Vogliamo vedere Gli enigmi Eh sì Quando ci saranno Guarda a terra Che ci sono I scarafaggetti Bruttissimi Tra le altre cose Oh che bello Entro in una cucina Come questa E mi viene tanta fame Il vero è stato Tanto Ora se ti dicessero Per esempio Ti do Cento euro Se ti mangi Il contenuto Di questa pentola Lo faresti? I piatti Brulichano Di vermi Sì Vai avanti Jill Non so fermarti Sui piatti Sì Jill È carina Sei Meno male Meno questo Dunque Da questa parte C'è un micro Mini stanzino Da questa parte Non ho memoria Di questo posto Proprio Zero totale Oh Matthew Ciao Matthew Ben arrivato 150 Anche la pentola Matthew Io ci conosciamo Poco Ma fai schifo Lasciatelo dire Ben arrivato Comunque Sono felice Di vederti Benvenuto Ragazzi Sono felice Di avervi tutti qui Da 150 euro Ma l'hai visto Quanta è la pentola? Guardalo È più grande di lei Al momento Può darsi che ci sono 30 litri Di schifezzi 150 euro No Non lo farei Mamma mia Chissà cosa ci può essere Metti che c'è una testa Di zombie Che ne sai No Non esiste Oh Guarda quanto è carino Ma Io in tutto questo Dovo ancora capire Qual è la cosa Che strisciava Sinceramente Ridi Ridi Che fanno Ho fatto i gnocchi Metti Prendiamo il pugnale Il pugnale Un pezzo di carne Di natura Non identificata Ecco Ecco ti la risposta Metti Vediamo 150 euro Mangeresti Un pezzo di carne Non identificata Guarda che non è Un oggetto Di diablo Non è che lo dai A cane E ti dice Questa è carne Di manzo Un altro Che bello Come se uno Non bastasse Giustamente Non si le fanno Mancare niente A me sembra strano Che questi rumori Siano soltanto Dei vermi Lei non mira niente C'è qualche cosa Di brutto Diciamo che Non lo vogliamo Non lo vorremmo sapere Preferiremmo non saperlo Il generatore Non sembra funzionare Sì infatti Sottolineo È un piacere Averti qua Metti Però sogni Che io ti dia 150 euro Vabbè Siamo arrivati Però inconcludentemente Una serie di spezie Che non hai mai visto Prima Provengono Dalle erbe Di qui sopra Per due pentole Però me ne devi Tre c'era Eh certo Giustamente Mi pare anche Vabbè Li ti do ragione Però Considera Diamo Uno Guarda quanto è grande In confronto a lei Cioè È più alta Di lei La pentola Ti devi mangiare Due di queste Ma forse Anche quantitativamente Non Non ci arrivi Voglio dire Sa di pollo Quindi non rischi nulla Sì A sapore Uno zombie Sa di pollo Harlock Come fai a sapere Che uno zombie Sappia di pollo Me lo spiego Così Io chiedo curiosamente Non è che Non voglio indagare Più di tanto Però è curioso Il fatto che tu sappia Che gli zombie Sanno di pollo Oh oh C'è qualcosa di C'è un pezzo di carne Vivente Non identificata Catebi Cadei Vediamo se ci riesco Eh niente Vabbè ora lo usa automaticamente Ma però è rincoglionita Sta ragazza Due coltellini Per uno zombie Vabbè Comunque faceva parte Della scena Noi eravamo Negli occhi Dello zombie Ci vedeva A malapena Dove Dove fosse prima Non si sa Però immagino Che adesso Abbia sbloccato Qualche cosa Che comunque Qui dovevamo Finirci In un modo O nell'altro Vediamo se ha aperto Qualche cosa Ah ti riferisco A quel pezzo Di cannone Identificato Beh il che Sottolinea Che tu comunque Sappia qualcosa No Sai qualcosa Harlock Di la verità Harlock Raccontaci La verità Sai qualcosa Che noi non sappiamo O meglio Che noi Non vogliamo Sapere Sinceramente Ti preoccupo Di mangiare Carne Non identificate Ma qui C'è poi l'emblema Che abbiamo rimesso Per questione di spazio Anche adesso Anche adesso Non me lo posso Unica portare Sono pieno Di robaccia Non posso Nemmeno salvare Perché non ho L'inchiostratore Si Si è sbloccato Questo Non ancora Vero Si infatti Questo è un messaggio Iniziale Che cosa sarebbe Quella faccia Harlock Che diamine Sarebbe Non lo capisco Questi linguaggi Giatterini Di voi ragazzi Io sono vecchio Voi siete Ragazzuoli Vediamo un po' Dunque Se saliamo Torniamo sopra In questo momento Non abbiamo proprio Niente da fare Io sinceramente Tornerei Alla stanza Di salvataggio Chissà se magari Da quel lato Poi posso andare L'apri Ma comunque C'è sia il balcone Quello rosso In alto a destra Dove c'era il cane Che prima ci ha devastato Praticamente Sia quel corridoio Praticamente Centrale Accanto Proprio Al cerchietto Dove ci sono Le frecce nere Praticamente Comunque Dobbiamo andare Da quel lato Va bene Molliamoci Da questo lato Vediamo Che cosa Non so A che tempistica Siamo al gioco Abbiamo superato Nora Mi pare di sì Non mi arrocordo Sinceramente Perché ci sono Questi rumori Sinistri Qui Però è bella La musica Che mettono Di atmosfera In queste cose Bellissime C'è anche Un riflesso Di lei Sul pavimento Dai Non ti impappinare Jill Dato che il pavimento È estremamente Lucido Lei Si Si rifletta Quindi non è un pampino Almeno questo Questa inquadratura Questo primo piano Qui è Curiosissimo Sentessimo In questi Ah Eh infatti Vediamo se riesco a salvare Anche liberarmi Un po' di Un paio di spazi Non dico tanti Uno Due Perché non so se poi C'è qualche Altro oggetto Da prendere Non abbiamo Completamente Nulla Ok Ok Dunque Possiamo posare Direi Intanto i proiettili Corrosivi Perché non avendo Il lanciagranate Non ce ne facciamo Una marba salata Possiamo posare Anche questo supporto In legno Magari puoi venirlo A riprendere Intanto prendiamo L'inchiostratore Così salviamo Il nastro D'nastro Sì sto usando Il nastro Inchiostratore Facciamo un terzo Salvataggio Ma sì Facciamo capire Che noi Siciliano Ci siamo tirati Insomma Ok Salvataggio Completato Sì Grazie Molto gentile Riposiamo Il nastro C'era il No Quello è nel 2 Il L'aggeggino Che aumentava La Capienza Dell'inventario Mi pare che fosse Resident Evil 2 O Dal Resident Evil 2 No Nel primo Non ho Non ho memoria Di questo oggetto E quando si trova Praticamente La La salvezza Del mondo Ora qua è bloccata La porta Infatti Dobbiamo Rifare Il giro Vediamo se Possiamo andare Da qualche parte Che non siamo stati Ah dobbiamo Comunque finire Quella stanza Finiamola allora Dato che siamo qui Ho fatto il tentativo Ho fatto il tentativo Ma era un tentativo Sbagliato Praticamente Comunque stavi recuperando La serie di Back to 90 Infatti è bellino come gioco L'hai Sì riuscito a finirlo Tutto Cioè l'hai visto tutto Vabbè Solamente tre episodi Quindi diciamo Lo finisce subito E il primo Il primo tra l'altro L'abbiamo proseguito Un po' Perché c'era un enigma Che in quel momento Non sono riuscito A capire L'ho capito subito Incise sul rilievo Ecco dove serviva Il foglio Devo andare a riprenderlo Va bene E' carino Sì Il 95 è carino E ti manca l'ultimo E' bellino Perché hanno voluto Proprio riprendere Lo stile Infatti ne parlo Anche nella Durante il gameplay Ne parlo Sì a me è piaciuto Tanto Forse perché Con queste cose Praticamente ci sono Nato quindi Oddio nato Ero già nato Da parecchio Però Sì E' bello Per tante cose Sia per lo stile Secondo me Si poteva Fare anche Un pochettino Più Più lungo Sinceramente Potevano perderci Un po' di tempo In più Forse si sono Un po' Trattenuti Hanno Forse voluto Finire presto Non lo so Però ti devo dire Che se l'avessero fatto Un po' Più lungo Magari se ci avessero messo Un altro tipo di finale Che non ti dico Naturalmente Che dici tu Grafica a parte Si è abbandonato Lo stile Con la telecamera Fissa Ma sai perché Anche per Per la compatibilità Con i controller Lo hanno fatto Perché giustamente Adesso i controller Che hanno tutti L'analogico Noi eravamo Tutti solo Col digitale Quindi giravi Sulla direzione Andavi avanti Era anche più consono Mentre in questo stesso Anche vedi Io in questo qui Nonostante stia utilizzando Ti faccio notare Vedi che utilizzo Il Proprio Il Tipo di controller Quello vecchio Quello classico Però sto usando Comunque Il Joypad analogico Mentre siccome All'epoca Non c'era Giustamente Era più logico Stranamente Avere quel tipo Di Di controllo Come piace Chiamarlo a me Back to the Trash È una mappa Di Villa 2F Logico Che la prendiamo Oh così Finalmente Abbiamo tutto Anche se Praticamente L'avevamo Già gironsolata Parecchiosamente Però adesso Vediamo le stanze Che prima Non vedevamo Oh 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 Bene A questo punto Direi Là se scendiamo Comunque Non possiamo In ogni caso Ritornare Perché quella porta È diventata solo Di ingresso Quella della Della scatola Qui sopra Abbiamo tutte le stanze Bloccate Ci serve Ad ogni modo Comunque Sempre Finire Nel In questa stanza Quindi comunque Devo andare a rifare Il giro Ok C'è qualcos'altro In questa stanza Perché me la dà Comunque ancora rossa Come c'è qualcos'altro E che cosa Cos'altro c'è Ah le piantine Che facciamo Le prendiamo No si una prendiamo Non si può mai sapere Non essere così Pignola Gilda E vai avanti C'è un bel po' Di strada Da fare A proposito Qual è Che io non me la ricordo Mai chiaramente Tutto quanto Mi auguro solo Di non farmi distruggere Da quel dannatissimo cane Che poi basterebbe Prendere Un attimino La mira Basta proprio Un attimo Cosa che a me Chiaramente Non riuscirà Sto prendendo La strada giusta Che io Con l'orientamento Di yoga Praticamente Scendeggiamo Se prendessimo Di qua Dov'andiamo a finire Ok E' quella Sala esterna Voglio dargli un'occhiata Perché in questo momento Non mi ricordo Se c'era Qualche cosa Baciato in sospeso O meno Una stanza In sospeso C'era sicuramente E' infatti Quella Diciamo Con Con il cancelletto Questa di qua Chiusa A chiave Dall'altro lato Va bene Noi non ci arriveremo Da qui Ma per il resto Praticamente L'avevamo Sbloccate C'è quella Sala Della morte Lassotto Con Dracula's Legacy Perché noi Dobbiamo andare A risvegliare Quel cosa Perché non lo lasciamo Lì e ci andiamo Dannazione Sempre che si complicano Le vite I protagonisti Di questi giochi Non hanno proprio Nient'altro da fare Oh guarda C'è un posto Di morte E distruzione Esploriamolo Ragazzi se non l'avete Ancora fatto Anche sul canale Di youtube Iscrivetevi Che siamo 12 per ora Se si scrive un altro Arriviamo a 13 Pochi ma buoni Direbbe qualcuno Io comunque Sempre vi ringrazio Sempre per Per essere qui Per seguirmi Per sopportarmi Ma non vi pago Assolutamente Male che vada Posso offrirvi Un caffè O qualcosa del genere Ma non aspettatevi Che io vi paghi E così si alzerò Il pubblico Del canale Siamo Sulla giusta strada Sì Va bene Speriamo di non farci Iscrivi subito Solo per il caffè però Ah eccolo L'ho visto Però è là dietro Scusami Com'è la stanza Qui Allora Teoricamente È tutta chiusa Però Lui è un cane Quindi immagino Che a un certo punto Salterà Cosa faccio Lo devo chiamare Lo vado un po' più avanti Così ho la Visuale libera E proviamo a usare Il fischiettino Dai Intanto comunque Dobbiamo rischiare Sì certo Non sei pagato Al minuto Sei pagato Praticamente Per iscrizione Quindi ti iscrivi E ti disiscrivi Ti iscrivi E ti disiscrivi Ti fai così Tipo per Circa 212 giorni E poi Io ti Pago Se non impazzisci Do fu un minuto E mezzo Praticamente Non è necessario Se dade Questo oggetto Adesso Quindi Adesso devo solo Correre L'impazzata E sperare Di non essere Divorato Come non detto Ecco Dove essere Non è morto Disgraziato Incredibile L'altro corre Ma non so Dove si sia bloccato Comunque Ad ogni modo Io per sicurezza Ah per ora Ancora Ok Non è proprio Rispettato il lavoro Dello spettatore Non ho per niente Assolutamente Non c'è rispetto Per nessuno Né per lo spettatore Né per l'utente Né per Per lo streamer È proprio La parola rispetto È una parola Che non si conosce Su questo canale Il rispetto Esiste in questo dojo Prendere sostanza Chimica Vassi Dai Non capisco Perché mai Non dovrai Qua è tutto pieno Di erba Oh che bellezza Non so se tu lo conosci Sinceramente Non so Ma io non so Se hai mai visto Però se ridi Vuol dire che Hai capito A cosa mi riferisco Eh scusami Possiamo esaminare Questa sostanza chimica Ce la fumiamo Insieme all'erba Così Dato che ci siamo Facciamo tutto in uno Earth Besser Che caspita vuol dire Earth A BERT Terra Besser Cos'è Fertilizzante Cosa vuol dire Besser Voi che siete Inglesomani Che io parlo L'inglese allo stesso Modo di come capisco Di Fisica termonucleare Agente chimico Che impedisce La crescita Delle piante Che bellezza Va bene Tanto le altre piantine Non possiamo prenderle Non c'è Un altro Punto Dal quale uscire Qui Questa Non posso prenderla Quindi immagino Che la stanza Rimanga rossa Vero Sì Va bene Allora a questo punto Andiamo verso L'altro canale Non so neanche Google Traduttore Dà una risposta Perfetto Fantastico Grazie comunque Per esserti Prodigato Alla ricerca Besser Io di inglese Già capisco poco Poi mi spuntano Ste parole Vabbè Lei dice Sostanza chimica È normale Che un fertilizzante Sia chimico Però insomma Anche capire Che tipo di sostanza Sia Vabbè Lasciamo perdere Ci le devo dire Che sembra un po' Rincoglionita Graziosa Ma rincoglionita Qua c'era Lo zombetto Magari è la marca Ho consumato 36 proiettili Ma almeno L'ho fatto fuori A sto giro Tu dici che sia la marca Ma io non credo Vediamo dai Allora For flower and grass Quindi per fiori ed erba Guarda caso Hertz Besser Quindi Boh Non lo so La famosa marca Besser Sì Quante volte Litri e litri Ogni giorno a pranzo Voglio dire Chi non beve Besser Di questi tempi Besser Bene 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 Gesserit Com'è Tutto questo buiame Qui Ora qua c'è L'altro cane L'altro maledetto cane Quello che prima Mi ha sorpreso Ma brutto Maledetto Mi prende sempre Sto maledetto Vediamo se adesso Devo ricaricarmi No Ancora ok Quindi Guarda prima Mi sono saltati Completamente addosso Proprio non sono riuscito A evitarlo minimamente Vediamo che dice Qua la statuetta Dell'angelo Niente Assolutamente Assente Perché il cane È morto Facendo il verso Della scimmia Perché Il Il T-Virus Trasforma L'interno del cane In una scimmia Scusa come fai a non saperlo È una cosa logica Voglio dire C'è una scritta Nella rientranza Il profanatore Della tomba Maledetta Voglio dire Ineccepibile È chiusa E noi non abbiamo Assolutamente una marba Per aprirlo Va bene Va bene Quindi Questo che forma Ha Pardon Ha la forma Di un ottagono Va bene A questo punto direi Che l'unica cosa Che abbiamo La possibilità Di fare In questo momento È andare A sbloccare Quella Quell'aggeggio Quell'ingranaggio Che c'è da tutt'altra parte Dobbiamo fare un bel po' Di strada Effettivamente Però È buona cosa Da fare Va bene Abbiamo Ci dobbiamo Liberare Comunque Di un Noi siamo Al primo piano Cioè Dobbiamo Andare A liberarci Il Un pochettino L'inventario Che è solo In quella stanza Al momento Possiamo fare Poi comunque Siamo costretti A salire Vabbè Tocca fare Questa stanza Questa corsa Ragazzi Pazienza Ok Abbiamo un inventario Pieno Quindi vado A posare Queste cose Posso l'erba E la E la sostanza Chimica E ci Molliamo Verso Quell'ingranaggio Nel quale Sostituire La chiave A salvataggio Fatto Almeno così Se c'è Qualche cosa Di Errato Qui c'è Qualche altra Stanza Non Non è che Adesso si apre Per esempio No L'altra Porta Qui Ma questo È quello Da famiglia Spesso Va bene E direi che Programmiamo così Facciamo questo Movimento Se riesce Bene Se non riesce Direi che Per stasera Possiamo anche Tranciare Qui Sperando che Almeno una cosa Beh siamo andati Un po' avanti A parte Quella Molto Orribile Inutile Di prima Spero male Siamo riusciti Ad andare avanti Eh si Ecco Questo Cerco di Metterle Insieme Così So Insomma Che ci sono Dove puoi Sistemarlo Un pochettino Per Per genere Diciamo Per Magari Poi lo faccio Offline Non ha senso Perdere tempo Adesso Per sistemarlo Poi ho anche Pochi oggetti Io quando Ho gli inventari Spesso e volentieri Mi perdo ore e ore Di gioco A sistemare Non è questo Il caso Perché è piccolo Insomma Se per esempio Prendiamo l'inventario Di Fallout 4 Ho Una base Piena Piena Di Di posti Di Di contenitori Pieni di oggetti Tutti catalogati Praticamente Ari famose Questo giro Giriamo Di qua E di là Aspetta Prima che Partiamo Così All'avventura Sto andando La strada Giusto Ma infatti Dovevo andare Da tutta altra parte Proprio Zero Non è cosa mia L'orientamento Non è per niente Cosa mia Io dovevo avere Una mappa Sempre su schermo Praticamente Altrimenti Proprio Non Non so mai Dove andare Come andarci Non la zecco Mai Ora Questo posto È al primo Piano Secondo Piano Dobbiamo andare Di là Quella è la stanza Dei corvi Questa Tutta a sinistra È la stanza Dei corvi Si sale la scalinata Quindi bisogna Andare di là Vabbè Direi che potremmo Anche proseguire Da questa parte Stavo pensando Anche in questi giorni A parte di Portare qualche Altro titolo Io Quando ho Un po' Di tempo Faccio anche Delle prove Non in live Non in trasmissione Non In streaming Diciamo così Private Per Trovare Le soluzioni Per trasmettere Infatti Siamo riusciti A portare Castlevania Con Con il Gameboy Insomma Non È una cosa stupida Però Organizzarsi Per portarlo È sempre Una Una seccatura Un Scassamento Di Bonbon Per non dire altro E mi piacerebbe Farò in modo Di portare Qualche altro titolo Di quel genere Ecco Comunque Sono arrivato Nella stanza Della morte La morte è bella La morte è fantastica La morte è qua La morte è là Non so in quale posto Io debba salvarmi Prendo la chiave Della villa La chiave Del suicidio Più che altro Direi Ah Non posso Muovermi Oh Non è questa L'arma Che posso mettere C'è la chiave Che posso mettere Che praticamente O forse Non è la posizione Giusto per metterla Forse devo mettermi qua È proprio la forma Che non c'è Perché mi pare Completamente diversa Sì perché Questa è Praticamente Posso esaminarla O mi schiaccia Nel frattempo Chiave della villa Non c'è niente Di insolito Tu dici vero Ah C'è l'armatura Qua Presente Non ci sia Una forma di armatura Infatti Non è questo Va bene Ragazzi Sto facendo il botto Bisogno di dormire Va bene Parsec Tranquillo Non c'è problema Grazie per essere passato Per essere stato qui Buonanotte Dai Ci becchiamo Alla prossima Fatti un bel riposino Buona dormita Buon tutto Buon Buon riposo Tanti Tanti bei sogni Tanti bei sogni Tanti bei sogni Entai Senza Pixelini Ok Non è questa la cosa Che devo Sostituire D'accordo Va bene ragazzi Io direi a questo punto Dato che questa cosa è andata In fuffa Diamo un'altra occhiatina Alla mappa Giusto per renderci conto Di quello che sarebbe possibile O non possibile fare Così poi ci organizziamo Per la prossima volta Io comincio a salutarvi Da ora Vi ringrazio tantissimo Ho visto stasera Che siamo stati Un po' più numerosi Del solito E la cosa mi fa davvero Tanto tanto piacere Grazie 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 1000 2000 3005 Il prossimo appuntamento Sarà Credo per lunedì Perché probabilmente Non so se domenica Riusciamo A fare salottino Mattutino Non lo so È in sospeso Diamolo come no Quindi la trasmissione Della domenica mattina La saltiamo Poi comunque Se vi trovate a passare Magari sempre intorno Alle 10 10 e mezzo Del mattino Può darsi che ci sarò Può darsi che no Ma in ogni caso Ci ritroviamo Lunedì sera Tu dici Quando riesco Passo volentieri Grazie Mattio Io sarò contento Di accoglierti E di Prigiarmi Come dico sempre Della tua compagnia Nonché di quella Degli altri E ci sono anche Dei personaggi silenti Io lo dico sempre Ci sono uno Due personaggi Due utenti Che passano Sempre o quasi sempre E non hanno mai Detto una parola Io li ho sempre Comunque rispettati Ho sempre detto loro Che io voglio bene E che mi fa piacere Averli qui Però Mi piacerebbe anche Conoscerli Però Se loro non Vogliono scrivere Insomma Io non li forzo Assolutamente Poi sarà Una loro decisione Carissimi ragazzi Mi pare che abbiamo Detto tutto Vi auguro una buonanotte Tanti sogni d'oro Vi abbraccio E come sempre Io e voi Ci ritroviamo Al prossimo video Ciao Ciao Ciao